Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natas e tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara, Penne. Una preghiera ecumenica insieme alle persone che abitano le strade di Pescara e dintorni. E' quella che si è svolta ieri sera alla stazione centrale di Pescara, dove i rappresentanti locali della Chiesa cattolica, di quella evangelica, di quella ortodossa e di quella metodista, si sono uniti in preghiera, vivendo anche un agape fraterna insieme ai fratelli più bisognosi nell'ambito della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Oggi alle 18, sempre nell'ambito della stessa settimana al comune di Pescara, si terrà l'intervento del teologo valdese Paolo Ricca sul tema Cosa riformerebbe Lutero oggi? Giovedì alle 18.30 invece, nella Chiesa dei Santi Simone ed Anna, i Vespri Ortodossi. Via Libera al rinvio del pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti contratti con cassa, depositi e prestiti dagli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2012, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, del 2016 e 2017, Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria e 2017, Ischia. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione di Cassa, Depositi e Prestiti. L'operazione consente agli enti di rinviare senza oneri aggiuntivi il pagamento dei rate dei prestiti concessi dalla stessa cassa per un ammontare superiore ai 106 milioni. L'intervento prevede, per quanto riguarda gli eventi sismici di 2016 e 2017, che le rate in scadenza nel 2018 potranno essere esigite l'anno successivo al termine dei pagamenti dei prestiti. Le modalità del rinvio saranno comunicate direttamente ai singoli enti. L'intervento si somma le numerose misure già adottate da Cassa, Depositi e Prestiti a beneficio delle comunità colpite da eventi calamitosi. Negli ultimi sette anni la Cassa ha dato 2 miliardi per ricostruire le case danneggiate o distrutte dal sismo in Abruzzo nel 2009. E sono 2305 le casette consegnate ad oggi in 33 comuni delle quattro regioni del centro Italia colpite dai terremoti del 2016. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, sottolineando che al momento sono in corso lavori in 74 aree. In tutto, nelle Marche sono state consegnate 975 soluzioni abitative d'emergenza, 693 sono le casette completate nel Lazio, 509 in Umbria e 128 in Abruzzo. Secondo i dati forniti dalle quattro regioni, le casette ordinate sono in tutto 3.662. L'Abruzzo ne ha chieste 238 per 11 comuni, il Lazio 826 per 6 comuni, l'Umbria 759 per 3 comuni e le Marche 1839 per 28 comuni, alle quali lo scorso 29 novembre ha aggiunto un ulteriore fabbisogno di 122 casette. Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile si può consultare la mappa sullo stato di avanzamento dei lavori. Il 25 gennaio, a partire dalle ore 18.30, in Piazza Muzzi a Pescara, si terrà in contemporanea con tantissime altre città italiane la fiaccolata di Amnesty International per continuare a chiedere verità per Giulio Regeni. Il gruppo locale di attivisti di Pescara accoglierà i partecipanti in piazza dalle 18.30 in poi, consegnando le fiaccole e cartelloni e leggendo il messaggio dei genitori di Giulio, la loro storia e gli sviluppi della campagna Verità per Giulio Regeni. Alle 19.41, ora della scomparsa, si accenderanno insieme le fiaccole e ci si raccoglierà per un minuto di silenzio. Un seminario aperto a tutti per conoscere i bandi Resto al Sud, grazie ai quali i giovani fino ai 35 anni potranno soffrire di contributi più pubblici per aprire nuove attività e i voucher digitalizzazione che sono incentivi alle piccole e medie imprese per acquisto di PC, hardware e software, potenziamento reti e accesso alla banda larga. Lo organizza per martedì 23 gennaio la Confcommercio di Pescara, quindi per oggi nella propria sede in via Aldomoro, numero 1, a partire dalle ore 16. Nicola Basilico e Cinzia De Santi si illustreranno le misure e le agevolazioni previste. In particolare, Resto al Sud prevede contributi per il 35% a fondo perduto e per il 65% a tasso zero per promuovere la costituzione di nuove imprese, escluso il settore commercio. Il bando voucher digitalizzazione prevede invece un contributo fino a 10.000 euro nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. Oggi è martedì 23 gennaio e la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Tommaso Fallica. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa pioggia al mattino, cielo molto nuvoloso nelle ore centrali e nel primo pomeriggio, poco nuvoloso nel resto del pomeriggio e poco nuvoloso con nebbia nelle prime ore della sera e poco nuvoloso in tarda serata con temperature da 7 a 10 gradi e 20 deboli. Nelle zone interne pioggia al mattino, cielo nuvoloso nelle ore centrali e nel primo pomeriggio, coperto nel resto del pomeriggio, poco nuvoloso nelle prime ore della sera e sereno in tarda serata con temperature da 6 a 9 gradi e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso. Ed era l'ultima notizia per quest'edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. A voi tutti grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti.